Bene ragazzi, anche in casa Urban Dance Secret è arrivato il Black Friday. Le nostre promozioni hanno un tempo e un numero limitato. Se siete interessati, cliccate il link qui in basso. Ciao ragazzi, sono Jennifer Sorbillo. Ciao ragazzi, io sono Rita. Ciao a tutti ragazzi, sono Gina Iniziata. Sono una new entry dello Urban Dance Secret. Devo dire che consiglio assolutamente a tutti. Sono molto contenta di far parte di questa scuola, perché la disciplina che amo di più è l'hip hop. Le coreografie vengono spiegate in maniera chiarissima. Per cui ragazzi, ci vediamo online. Correte ad acquistarla e iniziate a studiare. Ciao! Correte ad acquistarla e iniziate a studiare. Correte ad acquistarla e iniziate a studiare.